Non si fa. Siamo d'accordo su tutto. Ciò su cui non siamo d'accordo è che si continui a lasciare un business miliardario in mano alle mafie, che si continui con l'ipocrisia di Stato e che si continui a criminalizzare quello che è un comportamento e non un reato. Grazie. Grazie. È scritto a parlare il deputato Impegno. Prego, nella facoltà. Sì, grazie signora Presidente. Per la prima volta nella storia della Repubblica italiana discutiamo di regolamentazione legale della produzione, consumo e commercio della cannabis. Siamo finalmente riusciti a infrangere almeno il tabù della discussione in quest'Aula. Evitiamo quindi che il necessario confronto sul merito della legge si trasformi nello scontro superficiale e ideologico tra forze politiche. Tra l'altro per la verità questo è accaduto sui giornali e non oggi in quest'Aula, anche tra opinioni diverse all'interno degli stessi partiti. E questo è un buon segno. Ma evitiamo però di distinguere tra chi è favorevole alle famiglie e ai giovani e chi è per lo spinello libero. Questa è una rappresentazione macchiettistica del fenomeno e non rappresenta il lavoro, il sudore e la fatica di coloro i quali hanno finalmente sottoposto all'attenzione della Camera una legge che affronta il fenomeno per quello che è. Guardiamo in faccia la realtà e proviamo ad offrire delle soluzioni. La domanda, diceva bene il collega Romano, è quale legge riesce meglio a contrastare i fenomeni criminali e a limitare, limitare l'uso degli stupefacenti nel nostro Paese e anche delle droghe leggere. La realtà qual è? È che il consumo di cannabis riguarda a circa 6 milioni di persone e il suo mercato è totalmente e solidamente nelle mani della criminalità organizzata ed è a rischio la salute dei nostri giovani. Numerosi studi hanno dimostrato di recente che per produrre derivati della canapa si utilizzano agenti chimici estremamente pericolosi per la salute. E di recente la scoperta che ad esempio a Napoli veniva tagliata la marijuana e l'hashish attraverso il metadone che comportava una miscela esplosiva per i giovani ragazzi. Il Parlamento non può chiudere gli occhi di fronte a questo e deve guardare in faccia la realtà. Io sono per un Paese sicuro, dove il consumo di droga si riduce drasticamente e dove si investe in prevenzione e in recupero dei giovani e dei meno giovani. Ma per fare questo bisogna smascherare molte delle falsità che sono girate in questi giorni. Legalizzare non significa incentivare, promuovere, ma regolamentare, controllare e addirittura proteggere. È stato dimostrato che la legalizzazione non aumenta il consumo di droga da parte dei minori. Ci sono molti studi negli Stati Uniti d'America e molti esempi come il Colorado in Portogallo ed altro. E qualche volta dovremmo imparare a concentrarci meno sulle sostanze e più sui consumatori. Imparare a capire che esistono sì le droghe leggere e le droghe pesanti, ma esistono anche i drogati pesanti e i drogati leggeri. E questo un legislatore deve tenerlo ben a mente. Chi fuma due pacchetti di sigarette al giorno è a rischio totale tumore ai pulmoni. Chi beve quotidianamente in maniera esagerata è a rischio. E questo vale anche per la cannabis, perché la cannabis fa male. Ma al di là delle riflessioni etiche, pur legittime, gli obiettivi prioritari della legge quali sono? A mio giudizio sono due. Il primo è proteggere la salute dei nostri cittadini e in particolare dei giovani. E il secondo, contrastare, colpire al cuore le organizzazioni criminali. Vede, signor Presidente, io sono un deputato della Repubblica Italiana, ma sono anche un deputato di Napoli. E questa proposta di legge parla alla mia città, alla mia terra. Parla a una delle città che ha lo spaccio di droga più, le piazze di droga più importanti d'Europa. E parla ai minori, che non solo ne fanno uso, ma stanno nel ciclo produttivo della criminalità organizzata. Vedete, molto si è fatto e si continua a fare nel contrasto repressivo investigativo nei confronti dei fenomeni criminali legati allo spaccio. Ma dobbiamo dirci con estrema chiarezza che i risultati sono completamente fallimentari. Basta andare in qualche città, in qualche Paese, in centro o in periferia, in una piazza, in una strada, per verificare l'impotenza delle leggi nostre attuali e delle misure adottate in questi anni. E in questo ci viene in aiuto il parere della direzione distrettuale antimafia. Negli ultimi anni in Italia, sotto il profilo macroeconomico, il narcotraffico è stato il più rilevante ed efficace moltiplicatore di ricchezza, creando in pochi anni enormi accumulazioni patrimoniali che nessuna attività economica è stata mai in grado di produrre. E negli ultimi 20-25 anni il patrimonio ripulito, rimesso nel mercato, ho concluso signor Presidente, equivale a 400 milioni di euro. Insomma, purtroppo il mercato c'è, è florido, incontrollato e pericoloso. E la legalizzazione delle droghe leggere, ormai sostanzialmente liberalizzata nel nostro Paese, tutelerebbe veramente la salute dei nostri cittadini. Questo è un primo passo, facciamone un altro e facciamone per il bene dei nostri cittadini. Grazie. Grazie. È scritta a parlare la deputata Bruno Bossio, pregone a facoltà. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, io credo che questa proposta di legge, di iniziativa parlamentare, ha un primo firmatario, ma siamo tutti quelli che l'abbiamo firmata, primi firmatari, senza differenza in questo momento anche di appartenenza politica. È un primo passo e, lo sappiamo, non sarà una passeggiata, ma è un evento storico. Possiamo finalmente discutere senza i tabù di chi non entra nel merito, anzi, spesso non distingue, forse volutamente, liberalizzazione, legalizzazione, depenalizzazione. Un tabù, questo della mancata discussione, che ha impedito a migliaia di malati in Italia di curarsi la cannabis terapeutica, a decine di agricoltori di produrre canna passativa. Un tabù che attraversa la vita di tante famiglie italiane che devono affrontare il rischio per i propri figli, non solo per l'uso o l'abuso di una sostanza che fa male, che procura danni come l'alcol, le sigarette, ma anche quello dei rischi del mercato illegale. D'altra parte, lo sappiamo, l'hanno detto in tanti qui oggi, la repressione non ha prodotto grandi risultati. Dovunque le politiche proibizioniste, di cui la fine giovanardi è stata l'applicazione italiana, sono fallite. Il consumo di sostanze non è diminuito, il traffico è cresciuto. E a finire in galera sono stati per lo più i microspacciatori consumatori, mentre i grandi organizzatori